Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo sesto episodio dell'ignoranza tedesca Signori quindi eccoci in questo nuovissimo episodio numero 6 Cerchiamo subito una partita e vediamo di vincere anche questa No ma che cazzo tutte serie A Ma c'è un po' una bella squadra Dai rega iniziamo Ma che sta a fare? Già parte a fare skill questa Ma dai! Lotta Iopec! Dai io però Bastians No no è stata deviata Era buona uno che c'è io di testa Wolf Wolf Oddio Wolf Bravissimo no sarà liberato Zenga per Gerard Gerard No no dai regà dai però Bravo Bravo come recupera Zenga Bravo centrale centrale L'hai vista a sinistra Bravissimo Stop il camp Stop il camp No dai stop il camp Ma che cazzo Stop il camp in mezzo Non c'è nessuno regà non c'è nessuno Iopec Gerard 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 no Gerard Ma che cosa so sti passaggi Che cazzo Porta Porta a lui Bravissimo Oddio Zeres In mezzo C'è Jakob Funziona lo schema su punizione 1 a 0 Il gol Di Jakob Vai a esultare Grandissimo Dai a così Regà Occhio Bravissimo come esce Ma che ha fatto Murata Va benissimo E andiamo a vincere questa partita Quindi un upgrade per noi Insomma per la vittoria E anche un altro Per la porta in virale Perché è fino da 0 Quindi signori ci vediamo tra poco E spendiamo i due upgrade Dai Signori eccoci qui quindi con la squadra potenziata Due upgrade spesi Uno per Kimmich Al posto di Iopec E uno per Wemmer Al posto di Bush Quindi regà Io direi che inizia subito La seconda partita Andiamo a trovarsi quindi il secondo avversario di oggi Eh Marocchina Quelli sono tutti skiller Quelli là davanti Infatti si chiama skills La squadra Eh non è malaccio Non è malaccio Iniziamo Occhio Già che mi fa tutte skill Questi qua A me quelli che mi fanno le skill Mi fanno un cazzà Perché Io pure le faccio sempre Quindi capisco come ce se sente A subirle No regà M'ha fottuto M'ha fottuto M'ha fottuto No Per stoppercamp Stoppercamp C'è Gerhardt No regà Non ci credo come l'ha toccata Proprio il giusto Stopper Ha fatto tutto da solo C'è doveva essere un cross Perché ha fatto quella cosa Quello brobrio Stoppercamp Gerhardt Oddio Oddio Jakob Jakob Sì Sì Ora uno Da così Mamma mia Sì Che c'è Jakob Per stoppercamp Oddio è partito Oddio Oddio Jakob Jakob Vai Avanza Avanza Jakob 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 È il novantesimo 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Sì Sì Jakob Sì Non è punizione Finita qua 2 a 2 Pareggio Però C'è una cosa positiva Abbiamo vinto il titolo Quindi nel prossimo episodio Andiamo a fare il pack opening Faremo una partita E il pack opening Ovviamente Quindi regà Mi raccomando Andate a seguire la serie di Alessio Quella di Minecraft L'altro ieri Unedì è uscito un episodio Veramente sciotto Insomma Sta a fare veramente Dei bei progressi Seguite la serie collettiva Le varie serie collettive Seguite se non l'avete seguita La serie di The Wardrobe Insomma Rimanete connessi Mi raccomando Se non avete visto L'episodo precedente Ve lo lascio in descrizione Come sempre Insomma Andate la controlla Mi raccomando E ci metto sempre I video più importanti Insomma E niente regà Da volo è tutto Noi se beccava Un prossimo episodio Bella Bella Bella